Passata l'emergenza del fine settimana per il maltempo, restano però alcuni disagi e problemi nella zona di Chietiscalo. Qual è al momento proprio la situazione? Passata l'emergenza del maltempo, ma oggi ci sono tutte le conseguenze di quel maltempo e le conseguenze si chiamano 2 milioni di euro almeno di danni sulla rete viaria per le frane, per gli smottamenti, per le rotture del sistema idrico, così come quello fognario, ma anche degli impianti della pubblica illuminazione. Stiamo affrontando tutto al momento con le risorse comunali, con gli operai comunali e chiedendo alle ditte di intervenire in somma urgenza. Abbiamo bisogno che la Regione metta le mani nel portafoglio e inizi a dare soldi ai territori quando servono per davvero. Quello che noi vogliamo è che ci sia la risposta in questo momento. Ogni euro investito in prevenzione del dissesto ideologico vale 10 euro invece necessari per il ripristino. Vorremmo poter utilizzare quell'euro e non chiedere i 10 euro di cui oggi abbiamo bisogno. Situazione dello stadio Angelini dove non si è disputata la partita con la Folgore-Veregra. Qual è al momento? So che hanno ripristinato almeno il sottopasso, c'è da rivedere tutto l'impianto elettrico, ma non credo che ci siano altri problemi.